Negromanzia papale in Mondovisione Da Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992, nel sito web vaticano.va 2.112 Il primo comandamento condanna il politeismo. Esige dall'uomo di non credere in altri dèi che nell'unico Dio, di non venerare altre divinità che l'unico. Il Papa controlla le fake news. A volte i siti web sono tossici. È importante educare i giovani. Il 27 luglio 2022 Papa Francesco si è unito ad un rituale pagano indiano di smudging, purificazione. Durante la sua visita in Quebec è stato accolto nella sala dei ricevimenti mentre un uomo indigeno cantava e suonava un tamburo. Secondo il presentatore è stata accesa una tradizionale lampada inuit. L'anziano della nazione Huron-Wendat ha aperto il procedimento avviando quella che è nota come una purificazione rituale nelle quattro direzioni, usando erba e piume di animali per diffondere il fumo rituale nella stanza. È un chiaro atto di superstizione pagana. Al pontefice è stata presentata una piuma di tacchino e un'erba dolce. Poi è stato chiesto a tutti di partecipare ad un cerchio in spirito da cui poter visualizzare un fuoco sacro che unisce tutto ciò che esiste nella creazione. Noi onoreremo la terra, il vento, l'acqua e il fuoco, ha dichiarato l'anziano indigeno con classiche parole esoteriche. Noi onoreremo l'aspetto minerale, quello vegetale e quello umano. Continuando il rituale, con schemi e contenuti tipici della magia rituale, L'anziano ha detto che chiederà all'est di aprire la sua porta in modo che possiamo avere accesso in quella direzione. Come per il sud, aprirò anche la sua porta per avere accesso a quella direzione. Aggiunto mentre sventolava ritualmente l'erba fumante con la piuma di tacchino. Chiederò all'ovest di aprire quella porta, che ha chiamato oscuramente la porta della nonna. Aggiungendo infine che onorerà la direzione settentrionale, quella che l'anziano autoctono ha dichiarato la direzione dei nonni. A tutti i presenti è stato chiesto di mettere le mani sul cuore. Si vede Papa Francesco, così come i vescovi e i cardinali di alto rango in prima fila tra l'udienza, che eseguono tutti l'ordine cerimoniale pagano impartito. Per aprire le quattro direzioni, l'anziano sciamano ha fischiato quattro volte attraverso uno strumento in osso prima di dire Chiedo alla nonna occidentale di darci accesso al sacro cerchio dell'Ispirito. In modo che possano essere con noi, così da poter stare uniti e più forti insieme. Ma chi sarà questa nonna occidentale? Si tratta della cosiddetta nonna ragno della mitologia dei nativi, Spider Grandmother o Cocchia Unguti, e viene identificata con la Dea della Terra che vediamo qui su Wikipedia. Segue poi il discorso di Justin Trudeau con la cravatta color viola. Un buon osservatore si rende conto che per la simbologia dei colori della Chiesa è passata la solennità di Cristo re dell'universo. Viola Il colore viola è spesso associato alla Quaresima e all'Avvento. Il motivo per il quale viene indossato ai funerali è il suo significato simbolico di penitenza e lutto. Il funerale è un momento in cui i fedeli sono chiamati a pregare e a fare penitenza per l'anima del defunto. E il colore viola ricorda questo aspetto spirituale. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla? Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.